Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a Sport in Casa, inizia una nuova settimana e non può che iniziare andando a ripercorrere quello che ci ha lasciato in eredità la domenica calcistica, risultati importanti, classifiche che per quello che riguarda, questa sera parleremo di serie D e di eccellenza, stanno prendendo la propria fisionomia, si stanno definendo in maniera più chiara le forze dei vari campionati, anche se c'è ancora da completare il girone d'andata e c'è da giocare un intero girone di ritorno, ma intanto analizziamo quello che è successo in compagnia di un graditissimo ospite, non ha bisogno di grandi presentazioni perché lo conoscono tutti, Giacomo Cenetti, buonasera Giacomo, partiamo subito dalla serie D, campionato che ha visto risultati anche inaspettati o perlomeno vittime illustri e non solo, ecco pronta la regia di Renzo Rigon che ci riepiloga i risultati della domenica appena trascorsa, l'Adriese batte 2-1 il Montecchio Maggiore, il Campodarsego si conferma in grande crescita ed è una squadra che continua ad avere grande costanza di risultati, piazzandosi al secondo posto dopo la vittoria 3-1 sul Levico. La capolista Union Claudiense Chioggia Sottomarina va a vincere 2-1 al fair play di Cartigliano con un calcio di rigore molto dubbio, ma complessivamente la prestazione dei Granata è stata assolutamente convincente, il Legnago batte 4-1 la Dolomiti Bellunesi e poi insomma grande risultato anche del Caldiero in casa dell'Este, il Mestre vince 7-1 contro il Charlins e fa specie, anche se insomma sul campo della Virtus Bolzano non è facile per nessuno, il tonfo della Luparense 3-2 sconfitta proprio dalla Virtus Bolzano. Giacomo, iniziamo da così una panoramica generale, un campionato di Serie D quello di quest'anno che eccezionfatta forse per la Claudiense fa un po' fatica a trovare le regine, le squadre che insomma lasciano il vuoto dietro di loro, perché la Claudiense è prima a 22 punti, poi il Campodarsego a 19, quindi è lì lì, Adriese e Caldiero a 17, poi via dicendo non c'è un vuoto, non c'è proprio una distanza a Bissare, secondo te chi sono e chi è la favorita? Beh sicuramente le favorite sono Claudiense, Luparense e ci metto anche Ladriese, secondo me il vuoto non c'è più che altro perché le squadre tra virgolette tipo Este, Campodarsego stanno facendo veramente cose importanti e avendo speso comunque un budget rispetto alle altre è molto inferiore, però io penso che alla lunga le squadre che abbiamo visto prima, cioè Claudiense e Luparense, se la giocheranno fino alla fine. Secondo te Giacomo, Claudiense ha 22 punti, Luparense ha 16, sono già 6 punti di distacco, è un qualcosa che si può recuperare avendo poi già giocato lo scontro diretto o cominciano effettivamente queste distanze qua fra Luparense e Claudiense a pesare un pochino? Beh diciamo che non ci aspettiamo la Luparense magari così lontana dalla Claudiense, però vincere i campionati non è semplice e 6 punti alla fine non sono niente, parlo per esperienza personale, ho vinto un campionato che era più 10, però l'ho vinto all'ultima giornata e c'è stato il nostro spavento. Ce lo ricordiamo, grande esperienza del nostro Giacomo Cenetti, parliamo un attimo del Cartigliano, squadra in realtà che tu conosci molto bene, conosci anche tanti giocatori, Cartigliano sconfitto 2-1 proprio dalla capolista, dall'Union Clodiense con una prestazione nel primo tempo completamente a pannaggio della squadra ospite, della squadra di Antonio Andreucci, poi insomma nella ripresa il Cartigliano ha giocato a testa alta, è cresciuto, si era sull'1-1, è arrivato questo rigore un po' dubbio che ha scatenato non poche polemiche. Noi prima di ascoltare Giacomo Cenetti sul Cartigliano ascoltiamo cosa ha detto Alessandro Ferronato, allenatore proprio dei Biancazzurri a fine partita, ha fatto un piccolo bilancio di come è andato l'incontro ma sta già pensando a domenica prossima, giorno di un altro big match importante, quello tra proprio Luparense e Cartigliano. Ascoltiamo Ferronato. Con Alessandro Ferronato al termine di una partita, come la commentiamo mister, un 2-1 contro la prima della classe, ci sono stati diversi episodi ma partiamo da una valutazione generale sulla squadra, come ha giocato il Cartigliano e che partita è stata? Al primo tempo abbiamo fatto male per merito anche di loro perché hanno giocato con grande ritmo, con grande qualità, poi noi sulle poche palle che potevamo gestire meglio abbiamo sbagliato perché eravamo un po' timorosi, però loro hanno giocato bene, al primo tempo hanno fatto bene, meritavano sicuramente il vantaggio, è chiaro che dopo abbiamo sfruttato un errore loro e siamo andati in pari, però abbiamo giocato contro una squadra che si è contatto in questo campionato, poi è chiaro che se guardiamo l'episodio del rigore, magari non è rigore, ma sono entrati in area e quindi alla fine gli era dato e su quello hanno costruito poi la loro vittoria perché poi noi abbiamo cercato di attaccare con le nostre forze, anche se chiaramente non era facile perché comunque loro sono difesi bene, è una squadra esperta non siamo riusciti a trovare una soluzione per fare gol, comunque ce la siamo giocata, ci abbiamo provato fino alla fine, mi interessava vedere secondo tempo un pochettino di più coraggio, un pochettino di più precisione per inserirli un po', è dispiacere perché comunque è con loro, è la seconda volta in casa che prendiamo un rigore dubbio e perdiamo la partita 2-1, quindi c'è dispiacere per i ragazzi perché comunque è una partita che è bella da giocare. Mi stanno anticipato proprio la mia domanda perché insomma un secondo tempo con un cartigliano diciamo più propositivo rispetto al primo tempo ma appunto è il secondo anno di seguito che in casa arriva un calcio di rigore a favore degli ospiti, quantomeno dubbio. Ti chiedo allora mister anche un commento su una gara tanto spezzettata, hai parlato di giocatori smaliziati nel senso buono, calcisticamente, però tante interruzioni di gioco, tanta perdita di tempo. Sì perché poi quando loro sono andati in vantaggio la partita lì tra una cosa e l'altra i loro difensori centrali sembrava che prendessero sempre delle gomitate, non era vero, hanno giocato sull'esperienza che in questo campionato ci sta, lo dobbiamo accettare e mi dispiace perché poi la partita l'abbiamo tenuta viva fino alla fine che era quello che mi interessava, non prendere magari l'imbarcata perché comunque abbiamo giocato contro una squadra forte che merita il primato, niente da dire. Mister ultima domanda, insomma il tritico terribile Cerlins, Union Cloninense e Chioggia Stottomarina, Luparense domenica prossima, tre partite, le prime due sono andate, una vittoria, una sconfitta a testa alta, adesso domenica altra partita difficile contro una corazzata. Sì è una partita difficilissima ma è chiaro che noi queste partite qua dobbiamo mettere in magari non riuscire a fare punti, è normale, però mi piacerebbe sempre come oggi giocarsela fino alla fine, nel senso che possiamo pensare di tenerla viva fino alla fine, è chiaro, poi i punti si fanno anche contro queste squadre qua se si può, non è che ci rinunciamo, sappiamo che è molto più difficile perché hanno una struttura di squadra migliore della nostra. Giacomo questo il commento di Ferronato brevemente sul Cartigliano, un tuo parere? Beh c'è sicuramente da elogiare società e giocatori perché parliamo di un'altra squadra che investe tra virgolette poco ma dimostra invece tanto valore in campo soprattutto a livello umano e quindi vanno solo che applaudire società e giocatori. Adesso scendiamo in eccellenza perché insomma c'è tanto da dire anche sulla giornata appena trascorsa, vediamo i risultati, eccoli qua, ringrazio la regia, l'Academy Plateola vince 2-0, la Clivense sta trovando continuità importante e quindi espugna Garda e si piazza al secondo posto in classifica, 21 punti alle spalle dell'Ambrosiana che riposava, che ha 22 punti, pirotecnico 3-3 tra Mestrino Rubano e Vigasio, ma andiamo alle partite che più interessano questa zona, ovvero il 2-1 del Bassano sul campo del Pozzanovo, il 3-0 dell'Union Eurocassola contro il Castelnuovo del Garda e il derby Vicentino, il 3-0 roboante dello schio contro la Virtus Cornedo. Partiamo proprio da Bassano, Giacomo la squadra sta trovando continuità, il Bassano è a 17 punti in classifica, comincia la risalita, tu credi nel Bassano e dove pensi che possa arrivare? A malincuore Alex, io il Bassano non lo vedo tra le favorite, perché Clivense e Ambrosiana stanno facendo veramente un percorso importante, dispiace perché Bassano sicuramente non è l'eccellenza, la categoria che merita, però adora, poi c'è il mercato di riparazione, quindi non so il Bassano come si muoverà, però a livello di organico Clivense e Ambrosiana li vedo un bel po' avanti rispetto ai giallorossi. Secondo te è il progetto Glerian, che è un progetto sicuramente importante, ma si sa, lo abbiamo detto tante volte, anche con lo stesso presidente del Bassano, con il direttore sportivo, con il team manager, eccetera, è un progetto a media scadenza, secondo te l'idea del Bassano è seminare bene quest'anno per poi raccogliere i frutti l'anno prossimo, sempre con Glerian? Sì, comunque parliamo di un allenatore importante che conosce queste categorie meglio di tutti, però forse sì, perché comunque se guardiamo anche, io guardo spesso anche la panchina del Bassano e guardo la panchina della Clivense e dell'Ambrosiana, comunque a livello di nomi c'è un po' di differenza, però Bassano è una piazza che sicuramente tornerà dove merita di essere, lo sai che sono un tifosissimo di Bassano, quindi io me lo auguro che sia un progetto di medio termine, risultati importanti che sicuramente sono nelle corde del Bassano, risultati importanti che magari qualcuno non si aspettava potessero arrivare già subito in maniera così netta in casa della squadra del presidente Stelio Carletto, parliamo dell'Union Euro Cassola che ha battuto 3-0 il Castelnuovo, ma è a 16 punti, un punto in meno del Bassano con una gara in meno giocata, quindi insomma un avvio di campionato, quello dell'Euro Cassola sicuramente molto positivo, te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, ma come non mi aspettavo anche una partenza così del Cornedo, quindi le due sorprese secondo me sono una in positivo e una in negativo, però sono le due sorprese che non mi aspettavo di vedere un'Union Cassola così in alto e un Cornedo che comunque ha speso tanto, vederlo a 8 punti fa strano insomma. È vero, addirittura alla vigilia del campionato c'era chi indicava il Cornedo come una delle favorite o comunque nello slot delle 4-5 che sarebbero state comunque lì a giocarsela. A proposito di Virtus Cornedo che ha perso 3-0 contro lo Schio, Schio che è una realtà che tu conosci benissimo avendo vestito quella maglia, Schio diverso dall'anno scorso, ricordiamo insomma il finale di stagione complicato con l'intervento decisivo di Giacomo Cenetti insomma nel finale di stagione con i gol pesanti che hanno regalato la salvezza allo Schio, ma quest'anno sembra diciamo una squadra diversa, più tranquilla, insomma i punti stanno arrivando, come vedi i tuoi ex compagni? Beh io conosco bene l'allenatore perché è questo compagno di squadra Stefano con cui ho veramente un bel rapporto, lui è uno che comunque non ti fa mollare niente, che sei giovane o vecchio in campo c'è da pedalare, c'è da correre, quindi io me l'aspettavo comunque che le sue squadre, anche se è il primo anno che allena, faranno sicuramente bene, daranno filo da torcere a tutti. E allora siamo in chiusura ma ci siamo dimenticati, no, non ci siamo dimenticati di parlare di Giacomo Cenetti perché sei attualmente svincolato, giusto? Quindi insomma qual è il futuro del nostro centrocampista Giacomo Cenetti perché insomma conteso da tanti, voluto da tanti ma alla fine insomma si aspetta il mercato di dicembre, a parte che tu puoi firmare, puoi accasarti anche adesso, ma quali sono un po' le prospettive, gli orizzonti? Beh io ormai come ben sai, perché ci sentiamo spesso, ho fatto una scelta di vita, ho dato priorità alla mia famiglia, cioè alla mia figlia e quindi sto cercando diciamo solo qua in Veneto o in Emilia, qualche richiesta è arrivata però non sono riuscito a trovare l'accordo, aspetto la chiamata giusta perché ho tanta voglia di ricominciare, anche perché a stare a casa dopo un po' diciamo no, capito? Comunque è in forma, la TV tende leggermente a ingrassare ma invece posso confermare che Giacomo Cenetti è pronto, pronto a scendere in campo di nuovo con la sua classe, con la sua esperienza, allora in bocca al lupo per quello che sarà sicuramente un ritorno in campo di Giacomo Cenetti, per questa puntata è tutto, io ringrazio la regia di Fabio Verin e Renzo Rigon, grazie Giacomo per essere stato in nostra compagnia, appuntamento a domani, solito orario, poco prima delle 20 con Sport in Casa su Rete Veneta.